88, 1 seconda. Azione! Il tuo film è un film sovversivo. Pier, non esagerare, dai! Sì, sovversivo! Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto, tranne che di noi due. Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi? E come fai senza crema per il viso? Per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio a la Finissimpeak. Finalmente. Il nostro rendez-vous è confermato su Netflix. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No. No. Puff. Noi amici. Noi amici. Grazie a tutti.